Una comunità innovativa che guarda al futuro attraverso le sue migliori risorse, Popoli Brinda, con l'eccellenza del centro Abruzzo, lancia la piattaforma delle idee. Grazie all'evento organizzato delle associazioni Ripensiamo il territorio e Luci su Popoli, una riunione di tutte le professionalità ed eccellenze che si sono contraddistinte nei vari settori e hanno dato lustro alla comunità popolese e non solo. Ci sono professionalità tra le più disparate, dall'informatica al networking, l'idraulica, l'agroforestale, il turismo e l'intelligence, l'aeronautica, arte, informazione, campo amministrativo come pure imprenditoria e sport. Un brindisi di buon auspicio per il nuovo decennio che ha fatto fiorire nuove idee, per dirla con le parole di Gianni Natale di Ripensiamo il territorio. Si tratta di una progettazione in partenariato con le scuole e imprenditori, auspicabilmente anche con le istituzioni di ogni tipo e l'esigenza di una piattaforma che funga da infrastruttura dedicata a far germogliare iniziative, progetti, percorsi, culturali per contribuire alla rinascita del paese. Non molliamo mai e quindi abbiamo puntato questo obiettivo adesso. Il messaggio della parola di Secca è guardare avanti il futuro. Basta con i lamenti, alzarsi dalle panchine e puntare al futuro. Io sono qui perché ho dedicato, come sapete, la mia vita alla causa delle aree interne, delle aree rurali. Credo vivamente nei potenziali di questi territori. Penso che sono dei territori che sono ampiamente, diciamo, sottostimati, sottovalutati. Non hanno ancora la dovuta attenzione da parte sia della politica che da parte delle istituzioni. Io personalmente sono molto impegnata per questi territori da tanti anni. Sono vicepresidente Ocse per le aree rurali. Credo in particolar modo a queste iniziative che vogliono riportare le eccellenze, che vogliono ricreare delle reti e che hanno l'obiettivo finale anche di riportare i giovani in queste aree, che sono aree che hanno tantissimo da dare, come saper fare locale, impresa. Ricordiamoci che l'Abruzzo è una regione che ha molte aree interne, ma ha anche un grosso capitale di imprese. Quindi c'è un potenziale enorme in questa regione e in questi territori. È una bellezza fantastica che mi porta qui col cuore, perché io amo le montagne fin da quando sono piccola. Siamo un gruppo di intellettuali, ma anche di operatori, che sotto l'auspicio dell'editore Donzelli, siamo prendo un movimento culturale che si chiama Riabitare l'Italia. Il primo frutto è un volume che è già nelle librerie di tutta Italia, che tratta proprio dei temi di tutti i territori italiani che si spopolano e tutto quello che bisognerebbe fare perché si potessero ripopolare. E questo è un movimento culturale in corso di costruzione, quindi questa iniziativa noi la interpretiamo anche dentro questo movimento. L'incontro, che ha visto la presenza di diversi relatori e professionisti, è stato coordinato da giornalista Ennio Bellucci.